Bene ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in Excel Magico 113. Oggi è la terza parte di video dedicata alle user form. Se non l'avete ancora fatto andate a vedere i video precedenti 1 e 2 dove ci sono tanti trucchetti e scorciatoie. Oggi continuiamo con la nostra progettazione. Vediamo tre topic molto importanti che sono l'ordine di tabulazione. Vediamo come cambiare la forma del mouse al passaggio sopra i controlli. E parliamo anche dell'acceleratore. Tutte cose molto importanti, ma come prima cosa, che cos'è l'ordine di tabulazione? Bene ragazzi, chiudiamo la user form e rilanciamo la nostra user form. Notate che il cursore si è posizionato correttamente all'interno del primo campo. Premendo il tasto tab, vedete, passo dalla prima alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta. E questo qua è un esempio virtuoso di tabulazione. Questo significa che un data entry inserisce i dati, praticamente con il tasto tab inserisce i dati molto più velocemente. Tutti quanti sapete che cos'è l'ordine di tabulazione. È una cosa molto importante, che però molte volte questo ordine non è corretto. Per cui dobbiamo essere noi a conoscere questo strumento e intervenire. Perché qui ad esempio abbiamo un ordine di tabulazione dall'alto verso il basso, è molto semplice, ma potremmo avere anche un ordine di tabulazione da destra verso sinistra, perché potremmo avere anche altri controlli tipo checkbox, option button, piuttosto che combo box, eccetera, eccetera. Per cui conoscere questo strumento è molto importante per avere sempre una user form molto professionale, efficiente, che ovviamente ci toglie molto tempo. L'altra cosa molto importante di cui voglio parlarvi è, diciamo, il cambiamento della forma del mouse al passaggio sopra alcuni controlli. Ad esempio, se passo sopra questa textbox, vedete che il mouse cambia forma. Questa qua Excel me la dà di default, ma volendo possiamo cambiargli la forma. Qui abbiamo una sorta di I maiuscola, ok? Però notate che quando io passo sopra il command button, aggiungi, vedete che lui, diciamo da freccetta, diventa una manina, ok? E questo qua vi farò vedere come fare. Questo qua ovviamente rende sempre di più le nostre user form accattivanti e professionali. L'ultima cosa che vorrei parlarvi è l'acceleratore. L'acceleratore è quella cosa che mi permette di utilizzare i tasti di scelta rapida e con delle piccole combinazioni posso eseguire o meno alcuni comandi. Come in questo caso qua, notate che sul tasto aggiungi abbiamo la lettera A sottolineata. Questo vuol dire che se io premo la combinazione di tasti Alt A, mi esegue questo pulsante qua. Ma ovviamente questo pulsante qua è stato assegnato a una mago che mi carica, poi mi popola tutti il database. Andiamo a vedere come fare il tutto. Questa qua ovviamente era la parte finale, quella corretta. Andiamo a vedere come creare. Chiudiamo la user form, chiudiamo il file e andiamo a aprire il vecchio file laddove l'avamo lasciato nel video precedente. Ok, adesso andiamo a eseguire la nostra, vediamo che qui c'è un esempio di tabulazione scorretta. Vedete che non era lampeggiata, anzi chiudiamo, ecco ripartiamo. Vedete che il primo campo dove c'è il nome non è lampeggiante, vuol dire che non è stata fatta correttamente. Per cui abbiamo come primo pulsante della tabulazione il tasto archivia. Vediamo come fare il tutto, apriamo il nostro Visual Basic Application, andiamo qua, anzi chiudiamo la user form, andiamo in sviluppo, andiamo in Visual Basic. Ecco qua, clicchiamo sulla user form due volte. Per ragazzi creare questo ordine di tabulazione è abbastanza semplice. Clicchiamo sulla nostra bella user form, andiamo a cliccare sul tasto visualizza e andiamo a cliccare ordine di tabulazione. Mi viene fuori questo wizard qua che però non capisco tanto bene, nel senso che qua ci sono tre elementi che corrispondono al command button esci, al command button archivia e al frame che sarebbe praticamente la cornice. Però io mi aspettavo che ci fossero tutti quanti gli altri elementi, cioè tutte le label e tutte le textbox, cosa che qui non vengono visualizzate. E questo non viene visualizzato per il semplice motivo che noi le label e le textbox le avevamo archiviato dentro un gruppo, ok? Il gruppo che si chiama a questo punto frame, ok? Che è questo qua. Per cui noi dobbiamo fare due, diciamo, ordine di tabulazione. Il primo ordine di tabulazione è quello che riguarda la user form in senso generale e poi andiamo a ordinare anche tutti gli elementi che c'era dentro questo gruppo qua. Ok? Per cui se io ad esempio chiudo qua e clicco qua sul gruppo, vedete che tutto il gruppo è cliccato, ecco non clicco la singola textbox ma clicco tutto il gruppo e vado qua in visualizza e vedo ordine di tabulazione. Notiamo che ci sono tutti quegli elementi che mi aspettavo che ci fossero anche prima e che sono tutte le txt e tutte le lbl, cioè tutte le textbox e tutte le label o label che sarebbero le etichette. Ecco qui colgo l'occasione per dire l'importanza di mettere le abbreviazioni convenzionali di fronte ai nomi, così capiamo bene di quello che vogliamo fare. Per cui noi siamo interessati a organizzare bene queste textbox. Lasciamo perdere il label, tanto non ci interessa, per cui dobbiamo spostare le textbox in maniera, diciamo, ordinata. E dobbiamo fare in modo che, dato che qua rappresenta esattamente come è rappresentato qua, cioè la sequenza dall'alto verso il basso, a questo punto lo facciamo ogni tanto anche prendere il nome, txt nome e metterlo in alto sopra il cognome, per cui andiamo qua a cliccare, sposta su, vedete, txt nome, adesso abbiamo il cognome, adesso ci servirebbe la data di nascita che la troviamo qua, andiamo a spostarla sopra e poi ci interessa, ecco qua la txt totale che lasciamo in basso, va bene, ecco per cui sono abbastanza ordinati, per cui txt nome, cognome, data di nascita, città, ecco, ecco, lasciamo perdere le label, possiamo anche spostarle se vogliamo avere, diciamo, una visuale migliore, ma poco importa, spostiamo giù le label, giusto per avere, eccoci qua, spostiamo raggiù, ecco qua ho messo su, ecco qua, per cui abbiamo tutti i text ordinati correttamente, andiamo a fare ok, andiamo a eseguire la nostra user form, clicchiamo qua sulla user form, andiamo a fare con il play, ecco, vedete che se io clicco sopra, tab, 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 funziona, però avete anche notato che se io chiudo, anzi facciamo così, chiudiamo da qua e apriamo di qua, notiamo anche che non c'è il cursore lampeggiante, proprio perché nella user form abbiamo indicato il frame come terzo elemento da eseguire, infatti richiamiamo il nostro Visual Basic, sviluppo Visual Basic, user form, andiamo qua in user form, andiamo in visualizza, ori a tabulazione, ecco, vedete, se io posiziono dentro questa tabulazione il frame, lo porto in alto, sposta su, eccoci qua, poi visto che ci sono organizzo anche il command esci lo mettiamo giù perché è giusto che sia ultimo facciamo ok andiamo a eseguirla ecco vedete che adesso mi esegue correttamente il lampeggiante sul primo campo per cui tab 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 per cui tab 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 funziona correttamente ecco però sarebbe una cosa interessante cioè quella di escludere dall'ordinamento delle tabolazioni il tasto esci ok vedete che adesso è compreso questo sarebbe una buona cosa eliminarlo perché magari per errore ci andiamo a cliccare sopra per cui come facciamo eliminarlo come facciamo a fare questo richiamiamo il nostro visual basic editor chiudiamo qui ecco qua andiamo a cliccare il nostro pulsante esci ecco appena ho cliccato sopra avete visto che è cambiato anche qui la finestra di proprietà perché è una finestra intelligente contestuale cioè mi fa tutto quello che è associato a questo pulsante qua ecco qua giusto per capirci meglio se clicco qua su archivi ovviamente mi da il menu contestuale sull'archivio Torniamo su esci ecco se io scorro verso il basso andiamo a eliminare ecco qua ho scritto tab stop anziché true andiamo a scegliere false ecco potrei fare anche il doppio clic per switchare tra true e false ok mettiamolo false andiamo a cliccare qua sulla user form andiamo a eseguirla tab 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 ecco vedete che è imbalzato qua mi ha escluso il tasto esci questa è una buona cosa per chi archivia e velocemente magari archivia gli occhi chiusi e vuole essere sicuro che non commette errore bene ragazzi adesso vediamo come cambiare diciamo la forma del mouse ogni qualvolta che noi passiamo sopra un elemento ad esempio lui di default ha capito che questa è una textbox e mi ha messo una forma diversa vedete che da freccia passa a una forma di i maiuscola ok però quando passa ad esempio qua sul pulsante archivi vedete che da freccia rimane a freccia ma io vorrei che diventasse una manina giusto per rendere la nostra user form più professionale più accattivante e sicuramente migliore ok come possiamo fare questo chiediamo tutto ecco qua mi si è aperto il mio visual basic editor andiamo sul pulsante archivia anche qua viene fuori il menu delle proprietà contestuali ok ecco qua sono messi in ordine alfabetico ma io preferisco metterlo per categorie e scelgo ecco qua stringiamo le categorie e scelgo dove ecco qua varie ok e su varie vedete che c'è scritto mouse pointer ok tra i vari menu del mouse pointer c'è quello di default ovviamente in questo caso ci dà la freccettina però ci sono anche altre ci sono diverse frecce c'è la croce ecco qua potete giocare un pochettino come volete ci sono diversi tipi di frecce questo qua mi dà nord west south east west sarebbe quella freccia messa così eccetera eccetera poi c'è hourglass che sarebbe il anzi facciamo una prova mettiamo questo qua la glass andiamo a cliccare e vediamo cosa succede vedete quando io passo con il mouse hanno dato la north west ma dato scusate ho cliccato quella sbagliata chiudiamo andiamo sull'archivia mouse point video ha fatto up arrow vuol dire la freccia verso l'alto se invece sceglievo dove ecco qua hourglass eccolo qua vediamo cosa succede vedete quando passo con il mouse vede che cambia a forma mi viene fuori quella sorta di cerchietto che sta un po come una clessidra per il tempo ok bene io voglio metterci la manina ma spulciando tra le varie opzioni qua la manina non c'è ok non c'è io lo provate tutte sono sono 15 anzi 16 con il custom custom dire personalizzare andiamo a personalizzare clicchiamo qua su custom e andiamo qua a mettere vedete mouse icon ok bene il mouse icon deve essere un un'icona un po particolare io mi sono portato avanti vedete scegliendo da questo menu qua mi sono messo un'icona che ho creato con gimp che è un tipo photoshop ok l'ho salvata con formato icoico ok non salvatela con altri formati png piuttosto che jpeg o altre cose ma con formato icon e la dimensione deve essere per 32 infatti qua leggete 32x32 ok ecco io sarò buono con voi metterò un link in descrizione dove voi potete scaricare questa icona qua facendo doppio clic vedete che qua mi ha scritto vedete qua mouse icon mi ha messo l'icona a questo punto non facciamo nient'altro che testarla andiamo qua sul play button vediamo cosa succede ecco qua ho fatto un errore perché ho cliccato anziché il pulsante archivia ho cliccato la user form e questo qua è un errore molto grave non dovevo farlo riclicchiamo qua sulla user form togliamo l'icona e togliamo e mettiamo il default ok andiamo qua in alto default ok per cui adesso andiamo a cliccare archivia e qua dove c'è il mouse pointer andiamo a scegliere quello personalizzato se riusciamo ecco qua andiamo qua in basso e scegliamo l'icona anziché nessuna mettiamo da questo menu qua e scegliamo ok per cui ragazzi mi raccomando scegliete sempre il pulsante giusto altrimenti fate dei disastri come quello che ho appena fatto io però anche dagli errori si impara per cui andiamo a eseguire vedete cosa succede quando io passo boom diventa la manina ok bene ragazzi adesso vi vorrei parlare di una cosa molto importante cioè l'assegnazione dei tasti di default ecco per tasti di default si intendono il tasto invio della tastiera piuttosto che il tasto escape della tastiera cioè io dovrei assegnare un tasto qualsiasi esso sia che quando io premo invio mi esegue una certa cosa piuttosto che quando premo escape mi esegue un'altra cosa bene per questo mio progetto nella fattispecie andrò ad assegnare per questo pulsante qua archivia il pulsante della tastiera invio mentre per il pulsante esci andrò ad assegnare il pulsante escape della tastiera quello che c'è in alto sulla sinistra ecco ho detto ho specificato il tasto escape da non confondere con il tasto cance perché il tasto cance si vede che non ha un'assegnazione di tastiera di default andiamo a vedere come fare il tutto chiudiamo il tutto ritorniamo nel nostro editor visual basic che siamo nella user form ovviamente andiamo a cliccare il tasto archivia per assegnare che cosa qui nelle proprietà ecco qui possiamo andare a scegliere sia in ordine alfabetico ma anche per categoria andiamo qui nelle azioni e dove c'è scritto default ecco default sarebbe il tasto invio per cui per il tasto invio vado anziché lasciare force faccio doppio clic e metto il true ok andiamo a testarlo premo qua sulla user form play button se io ad esempio premio invio dovrebbe selezionarsi il pulsante archivia vediamo vedete che funziona ok chiudiamo andiamo a segnare anche il tasto esci ecco qua mi assicuro che seleziono qui il tasto esci vado qua in basso anzi qua in azioni ecco qua dove è scritto cancel andiamo a mettere true ecco qua potrebbe entrare l'inganno perché qui hanno scritto cancel che verrebbe spontaneo a pensare che il tasto cancella però non è il tasto cancella ma è il tasto escape ok io non capivo perché commettevo sempre l'errore premevo cance ma non funzionava alla fine ho capito che era il tasto escape anche in questo caso qua mettiamo true ok andiamo a testarla andiamo qua dal play button se io ad esempio premo escape dalla tastiera ecco qua vedete che mi ha selezionato escape e in questo caso qua mi esegue l'escape ovviamente qui non succede niente perché non c'è nessun codice al suo interno bene ragazzi una buona alternativa all'assegnazione dei tassi di default di cui vi ho appena parlato il tasto invio e il tasto escape potremmo utilizzare l'acceleratore che va bene per qualsiasi altro diciamo controllo che c'è all'interno della user form ok cosa vuol dire questo vuol dire che io prevendo una convenzione di tassi central a che iniziano sempre con alt diventa facile poi eseguire quel pulsante piuttosto che magari quella test box combo box check box o quantato qualsiasi cosa che è presente comunque nella user form ad esempio in questo caso qua dell'archivia vado a sottolineare la lettera a dove dire che facendo alt a mi esegue questo pulsante qua ed è semplicissimo chiudiamo il tutto andiamo nella nostra user form ecco qua su dove c'è il tasto archivia dove qua andiamo in ordine alfabetico dove è scritto acceleratore mettiamo la lettera a ok ecco notate una cosa in cui l'ho fatto di proposito perché la parola archivia è composto da due volte a che c'è quella maiuscola e quella minusca avete capito che qui è un case sensibile cioè è sensibile alle minuscole e alle maiuscole quindi in questo caso qua dovevo mettere per forza la a maiuscola perché è sempre meglio comunque diciamo avere la prima diciamo il primo carattere come carattere di acceleratore ok bene ragazzi la stessa cosa facciamo per escape però non essendoci due e possiamo mettere anche la e minuscola perché comunque lui la prende ok ecco la stessa cosa la facciamo per l'eleva però ancora prima vediamo se funziona andiamo qui se clicchiamo sulla user form andiamo sul play button a questo punto io facendo alt e vedete che mi seleziona il pulsante e se faccio alt a vedete che mi seleziona archivia e ovviamente qui non ci sono codici ma se ci fosse stato un codice sotto di questo sarebbe stata eseguita tutta la user form ok ecco torniamo indietro andiamo a dare un nome anche a queste label qua qui la chiamiamo n ok mettiamo n maiuscola qua mettiamo la c ecco qua possiamo metterla anche minuscola poco cambia perché non c'è solamente una c qua mettiamo la d qua mettiamo la c di città eccoci qua e qua mettiamo la t di totale ecco vediamo se funziona ecco se faccio alt c vedete che non funziona mi dà il classico suono di errore questo perché per il semplice motivo che l'acceleratore è assegnato diciamo a delle etichette però le etichette non hanno un comando non sono come questo qua dei command button che partono qua non mi esegue niente questo qua è una stringa scritta lì punto e stop non mi esegue niente però io vorrei che quando faccio non so alt c si posiziona qui anzi qui di alt c ce ne sono due per cui magari qua dobbiamo cambiare per forza magari dove scritto città mettiamo alt facciamo i facciamo alt i ok la mettiamo la i così mi si seleziona bene ragazzi a questo punto c'è un escamotaggio per far sì che cliccando la c mi si va a posizionare il cursore a fianco alla sua text box e dobbiamo intervenire dentro il menu ordine tabulazione per condiamo in visualizza ordine tabulazione ecco ovviamente qui ho cliccato sulla user form ma dovevo cliccare sul gruppo ok a questo punto vado in visualizza ordine tabulazione ecco in questo caso qua in questa finestrella qua devo far sì che a fianco alla lbl nome ci sia la txt nome e come faccio a fare quello vado a prendere semplicemente la lbl nome e la vado a spostare sopra a txt nome ecco qui stessa cosa txt cognome deve essere dobbiamo mettere sopra la lbl cognome ok ecco qui sopra la txt nascita devo mettere la lbl data di nascita eccoci qua lbl data di nascita txt città mettiamo sopra la lbl città ecco qua txt totale lbl totale lbl ovviamente va sopra ok faccio ok andiamo a vedere se funziona se io faccio alt t vedete che si posiziona correttamente si è fatto alt c si posiziona a fianco ovviamente ha poco senso in una user form così piccola avrebbe più un senso logico in una user form molto più grande con molti più strumenti dove richiamare uno strumento diventa molto facile con appunto la combinazione di txt scelta rapida che iniziano sempre con il tasto alt ovviamente questi strumenti qua sono molto apprezzati da coloro che inseriscono dati tutti i giorni in maniera ripetitiva continuativa per cui ben vengono queste scorciatoie che ci aiutano tantissimo perché oltre essere comode comunque rendono la nostra user form più bella più accattivante e quindi ben vengono l'ordine di taburazione ben venga cambiare la forma del mouse ben venga l'acceleratore ben venga ben vengono l'assegnazione dei dati default tutto ciò che servirà è utile per migliorare le user form perché non usarle bene ragazzi ovviamente cliccando qua sui tasti non mi dà niente perché non c'è nessun codice nel prossimo video andiamo a buttare giù due codici molto semplici semplici basic ma molto utili penso che comunque siamo arrivati alla parte finale del video vi consiglio sempre di testare 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 ve lo dico sempre provate 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 che solo dai vostri errori imparate siamo arrivati alla fine grazie di aver visto questo video fino alla fine se vi è piaciuto ovviamente mettete un like altrimenti un dislike grazie ragazzi alla prossima ragazzi come al solito se vi è piaciuto mettete un like ovviamente se non vi è piaciuto mettete anche un dislike qui sulla sinistra abbiamo il tasto rosso iscriviti qualora non siete mai iscritti ci clicco sopra ecco qui a fianco troverete una campanella che servirà per abilitare le notifiche via email così quando pubblico un nuovo video verrete informati grazie ragazzi e alla prossima